Ciao, ciao, ciao. Buongiorno a Trello. Comincio io che sono l'unica don. Federico, benvenuto, ci possiamo anche parlare. Senti, che cosa ti ha portato a Vicenza? Perché hai lasciato Cittadella dove hai fatto una peggiore stata spesa e c'era anche un buon legame con Cittadella. Che cosa ti ha portato qui? Tanto grazie del benvenuto. Sì, vengo da tre anni comunque belli e importanti come Cittadella dove sono cresciuto tanto, infatti vi ringrazio. Avevo bisogno di una nuova sfida. La società e la proprietà mi hanno voluto e ho percepito la fiducia e la voglia di volermi qui. Per me è stata facile come scelta. Vengo in una piazza importante e bella. Poi ero più vicino, quindi già so tanto. La scelta era facile. Sono contento e non do l'ora che inizia il campionato e di iniziare questa nuova avventura. Senti, hai detto che la scelta è stata facile, però fino al giorno prima sembravi destinato al Brescia. Puoi raccontarci qualcosa, qualche retroscena di quello che è successo negli ultimi diciamo è successo. Cioè, in quella settimana io ho preso del tempo perché ancora dovevo smaltire la passata stagione che è finita un po' così. Quindi no, è stata più che altro una scelta mia personale, non era questione di altre squadre. Ho preso del tempo per me indipendentemente da quello che era poi il mercato. E poi non ho avuto dubbi, sinceramente sono venuti volentieri e sono felice di essere qui. La conoscenza della proprietà è inciso nella scelta definitiva? Sì, sicuramente sì. Conoscevo tanti ragazzi, conosco qualche persona, quindi sì, sono contento, un po' inciso. Quindi sì, un po' sì. Come dico, come sono state? Beh, il primo allenamento è già sceso in campo, adesso avete sabato un'altra sfida a te, in questo bisogno che siamo rilevole. Raccontaci un po' l'approccio con i compagni e anche un po' il campo. Cioè, come ti sei sentito, come stai tecnicamente? Che cosa puoi dare a questa squadra? Sì, abbiamo iniziato, io sono partito una settimana dopo, però mi hanno accolto subito benissimo, un gruppo, sapevo che era un gruppo bello e unito, quindi per me è stato facile. Mi sono trovato bene e stiamo lavorando ancora, personalmente sono ancora un po' indietro fisicamente, però, chiedi dire, ha fatto apposta per quello. Quindi, a modo di lavorare, non tantissimo, perché tra i primi ci abbiamo già il primo impegno ufficiale, però mi sono inserito bene il modulo, comunque lo stesso che facevamo l'anno scorso a Cittadella, quindi non ho grossi problemi. Sto cercando di assumere proprio velocemente quello che richiede il mister, quello che sono poi caratteristiche della squadra, e adattarmi e cercare di dare il massimo per aiutarla a fare belle cose. Senti, sei una mezzala con facilità di andare anche a rete, le tue caratteristiche positive, magari le conosciamo, quali sono i difetti di Federico Proia? Allora, sicuramente è un aspetto su cui mi sono messo già degli obiettivi che voglio migliorare, è sicuramente la fase di essere meno eruento, però ci ho lavorato tanto anche in questi anni, quindi come difetto è quella, la fase un po' di interdizione, di la fase difensiva, essere più ordinato, alcuni aspetti che poi non li svelo tutti, perché no, vengono fuori solo quelli, però c'è tanto da lavorare e tanto da crescere. Tu finora hai giocato in squadre, diciamo, di media dimensione, con pubblico anche abbastanza limitato, insomma, questa è la tua prima esperienza forse in una squadra che ha anche un certo passato di rilievo nel calcio. Sì, esatto, infatti è anche una scelta che ho voluto e uno step successivo per la mia carriera che ricercavo, anche per avere, non che non l'avessi Cittadella, però con tutto rispetto, qui c'è un ambiente più grande, molto, che pretendono giustamente di più, una cosa che è importante, quindi è una sfida che volevo, che ho cercato e sono contento di essermi alla vera. E sotto questo aspetto, anche con te, il mister ha fatto un po' di, diciamo, training psicologico per farti capire dove sei arrivato. No, 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 sì, 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 nel senso mi ha detto che comunque la conosce benissimo qua il mister, quindi sicuramente mi ha parlato bene, già mi ha illustrato un po' la situazione, a cui sono concentrato e so quello che devo fare, quello che vogliono e che dobbiamo fare quest'anno. Quindi ci sono grosse aspettative e chi si tiene che sono grandi responsabilità, no? In un mercato in cui spesso i giocatori vengono scambiati in prestito o a fine del contratto, spendere quello che ha speso la propria già per un centrocampista, no per un appunto, prendiamo il Moza, è un attestato di stima, è importante però che dovrai poi tu cercare di giustificare, quindi ti pesa questo ruolo? No, è il nostro mestiere, io lavoro per quello e darò il massimo consapevole, comunque ne hanno avuto fortemente, la mia scelta è ricaduta qui, quindi darò il massimo però di tutto per ripagare questa fiducia e per migliorare poi quello che è il risultato di squadra e di tutto l'ambiente. Senti, il calendario ti mette subito a confronto con la tua ex squadra, cosa hai pensato quando hai visto la partita? No, non l'aspettavo, dirò la verità, perché comunque ne avevo parlato ancora, mi sento con alcuni confagni, quindi fa piacere, mi ritrovo subito, è un piacere di vedervi perché comunque ho fatto tre anni importanti e sarà bello però sono concentrato sinceramente più adesso a Vicenza farà, li saluterò magari dopo la partita, se ti andrà bene. Vediamo, non credo, perché comunque mi hanno insegnato tanto, sono cresciuto tanto e esulterò dentro, ma intanto pensiamo a vincere e a far qualcosa che abbiamo. Senti, una piccola curiosità mia, hai già scelto il numero di maglia o pensi... Sì, ancora sono in decisione, però a giorni dovremmo decidere, quindi ancora... Non svegli. Senti, come hai trovato la squadra, il gruppo, secondo te questo Vicenza, come a livello di squadra? Beh, ho percepito tanto entusiasmo, tanta voglia di migliorare quella vera perché era già più l'anno scorso, di migliorare quello che è stata la stagione scorsa, quindi c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di crescere, di far ambientare tutti subito e di capirci tutti l'uno con l'altro, quindi sono positivo e c'è da lavorare tanto e sarà un campionato difficile, quindi dovremmo stare... dovremmo conoscerci meglio tutti subito e poi approntare spensierati e cattivi tutte le partite che ci saranno per giocare. Senti, al Cittadella è capitato spesso di arrivare ai payoff senza essere favorito, se dovessi dire quale può essere la ricetta per una squadra che magari non ha fatto una campagna acquisti di quelle tipo Monza o Parma per arrivare comunque in quella zona lì, quale potrebbe essere? La Serie B bisogna avere meno momenti, quindi dovremmo avere più costanza e lavorare e dare sempre il massimo, poi i risultati se lavori bene li raggiungi, dobbiamo essere tranquilli, quindi avere un obiettivo chiaro in testa e lavorare e martellare tutti i giorni per raggiungerlo. Sì, mi piace tanto stare a casa, mi piace cucinare, ora ho un nuovo cagnolino, quindi è un po' impegnativo perché era il mio primo, quindi mi sto adattando, comunque ho tanto da fare. Senti, sta diventando una parte sempre più importante nel mondo degli sportivi, qual è il tuo rapporto con i social? Beh, non sono tanto social, nel senso ci provo, mi piace, mi diletto, però sto cercando perché comunque negli ultimi anni è diventato una sorta di curriculum delle persone, quindi cerco di curarlo e di con attenzione usarlo, sì. Ok, grazie. Grazie.